Ma ciao ragazzi! Oggi facciamo un piccolo vlog perché vorrei portarvi con me nel luogo dove io compro tutte le mie cosine esoteriche. Quasi tutte vengono da Libreria Naturista, come già sapete. E io oggi vorrei portarvi con me proprio lì per farvi scoprire il mondo dove. Dove la vostra auto compra cristalli, incensi, libri, tutto. Tutto quello che potete immaginare. Perché Libreria Naturista oltre ad essere il negozio più storico di Pescara esoterico è anche il negozio più fornito e con persone veramente stupende che coccolano il cliente e lo fanno sentire sempre a loro agio. Quindi non l'induggiamo oltre e seguitemi per scoprire Libreria Naturista a Pescara. Ragazzi siamo arrivati a Libreria Naturista però stiamo cercando il posto che qui è un macello a Pescara, è veramente un casino per il posto. Ci si mette dove capita. Ci vediamo tra poco, forse. Abbiamo trovato posto e stranamente anche gratis. Sì. È vero? Ora ci dirigiamo verso Libreria Naturista. Ragazzi siamo arrivati. Se siete di Pescara e dintorni o venite in vacanza a Pescara dovete vedere questo negozio. Negozio soterico storico di Pescara con personale eccezionale, preparatissimo, qualsiasi cosa gli chiedi te lo trova. Una vastissima collezione di pietre, veramente ci trovate di tutto. Ovviamente sono anche ordinabili quindi per qualsiasi cosa rivolgetevi al personale. Sono meravigliosi e super super carichi di energia. Ci sono anche braccialetti, braccialetti in chips, levigati in tutti i modi e sì sono proprio quelli miei se non l'aveste riconosciuti. Davvero c'è una vasta selezione di pietre in tutti i modi. Collane, ciondoli, di tutto. Argento, un pochino più economici tipo questi anelli che vengono solo 10 euro. Di tutto davvero. Poi ci sono geodi, pendoli, genesia che le genesia sono un'esclusiva e le fa una ragazza, gliele porta proprio una ragazza e ne sono vari tipi, vari modelli e varie cose. Carta di Eritrea, tarocchi, i tarocchi davvero di tutti i gusti. Tutti i tarocchi scarabbeo possibili e immaginabili. Davvero quando entri qui non sai come resistere nel prendere tarocchi. Ci sono anche i sacchetti come potete vedere esposti in vetrina. Poi ci sono tante pietre di varie dimensioni e forme e piccolo spoiler, qualcosa è venuto a casa con me qui. Adesso ci dirigiamo nel mio reparto preferito. C'è wicca e stregoneria. Ci sono grimori, sigilli, tazze, libri, qualsiasi cosa. Persino il calderone. Poi c'è il reparto cristalli, libri sui cristalli, le rune, di tutto. E c'è una vastissima selezione di libri su qualsiasi cosa. Potete vedere le sezioni ben distinte, cosa che quasi nessuno fa. In più ci sono dei libri anche tipo sull'aromaterapia, se proprio non volete dedicarvi alla stregoneria e cose così. C'è di tutto. Sviluppo personale, se magari avete bisogno di un sostegno. Poi adesso vi mostro un libro, Abruzzo esoterico e occulto, di Federica Baldi, che io ho letto e vi ho recensito. Se volete recuperarlo, sul canale c'è la mia recensione personale. Abbiamo una vasta selezione di incensieri di tutti i tipi, tra cui anche quelli delle fate, che non tutti hanno. E poi tanti piattini, incensieri e roba varia. Tornata a casa, invece, c'è a malincuore, ovviamente. Ho trovato i miei cucciolotti ad aspettarmi. Qui c'è Snoopy e poi arriva Brandon. Totò è sempre in giro e non c'era. Brandon che si viene subito a coccolare il cucciolotto. E io ero in pena perché ovviamente avevamo lasciato il libreria di una turista e ci passerei la vita lì. Ora vi mostro che ho preso. Ho preso una labradorite e una pietra di Sardonice. Ho letto Sincerità e Carattere Forte e ho detto è per me. Guardate che meraviglia. Cioè, sono delle pietre uniche. Questa proprio sembra che quasi ha un geode dentro, per quanto è carina. Proprio lì. Anche se non si vede bene nel video. Invece, la labradorite è bellissima, ha delle sfumature pazzesche, però in video purtroppo non rende l'idea di quello che è dal vivo. Ma credetemi, ha delle sfumature e una lucentezza unica. E poi sono cariche e cariche di energia. Devo ammettere che sono molto diffidente e mi affido a loro per le pietre, quasi tutte. Poi ho trovato un amichetto a aspettarmi a casa alla porta. Guardate che ragnetto carino, bellissimo. E mi raccomando, noi ci vediamo per il prossimo vlog che si svolgerà a Bancomatta, il mio negozio di vestiti preferito. E se passate al libro della naturista, taggatemi. Ciao ragazzi!